Riunioni in prefettura Salerno questa mattina del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, un tavolo convocato per discutere della problematica relativa ai diversi incendi che hanno interessato il territorio di Battipaglia. Al Palazzo di Governo con il prefetto di Salerno Francesco Russo, anche l'ingegnere Francesco Curcio, coordinatore della cabina di regia nazionale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'emergenza sulla Terra dei Fuochi, la Sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese e le Forze dell'Ordine. Una richiesta, quella del tavolo di oggi per discutere dell'importante problematica accolta all'indomani del primo rogo a Battipaglia, come ha tenuto a sottolineare la Sindaca che ha lanciato un appello affinché le istituzioni non vengano viste come il nemico ma come un alleato da sostenere per combattere questo fenomeno e per tutelare il territorio. A Battipaglia si vive sicuramente le persone sono esasperate perché è quello che io cercavo di dire all'Onorevole Bonavitagola, le persone non credono più alle istituzioni, quindi poi se cade anche la figura del Sindaco come immagine, vuol dire addio, non c'è più uno sbarramento tra Comune e le istituzioni più alte, quindi ecco perché la necessità di mettere mano, di rivedere queste autorizzazioni che stanno sul nostro territorio. Qualcuno vuole far apparire questo piccolo traguardo perché non è il traguardo e comunque le battaglie si vengono poco per volta come un fatto negativo, invece non è così perché il fattore di pressione lo hanno adottato molte città del nord, Brescia per esempio, la regione Lombardia tra l'altro ha vinto anche in ricorso davanti al Consiglio di Stato, che cosa dice? Dice Battipaglia ormai è una città satura, quindi non è più idonea ad accogliere ulteriori industrie del rifiuto, questo è il principio fondamentale. Sulle autorizzazioni vecchie è chiaro che poi si continuerà a ragionare, ma già questo è importante, noi continuiamo a fare i controlli, abbiamo costituito una task force tra SUAP, Vigili Urbani e Ufficio Tecnico e sono partiti, ma erano già partiti i controlli a tappeto, ricordo che l'industria che ha preso fuoco era stata sequestrata grazie all'azione dell'amministrazione e nonostante ci siamo opposti nel luglio del 2018, la regione autorizza perché ha un altro nome, è un'altra società, ma il risultato è lo stesso. Se ci fosse stata, e voglio far capire ai cittadini di Battipaglia, se ci fosse stata questa famosa delibera sul fattore di pressione, quell'azienda non avrebbe aperto come un'altra nell'anno precedente, quindi qualcuno viene e dice posso delocalizzare quella zona ASI, già questa è un'anomalia, il fatto che il sindaco non ha il governo del territorio, il problema è che se il PTCP dice che le industrie di rifiuto vanno in zona industriale, noi abbiamo una zona industriale, mettiamola a Battipaglia. Queste poi azioni sono vecchie, io mi trovo in una situazione che è ventennale, allora vorrei dire probabilmente 20 anni fa e 15 anni fa, quelli che ora denigrano, quelli che ora stimolano là dietro dovrebbero farsi un esame di coscienza, se hanno fatto qualcuno che dice che devo consegnare la fascia per protesta avrebbe potuto consegnarla all'epoca quando erano consigliere comunale o qualcun altro consigliere regionale, ma non è così, non si consegna la fascia, si va avanti, immagino che è una sua idea, ma si va avanti nella battaglia insieme ai cittadini, cioè i cittadini devono capire che il sindaco sta prendendo una posizione molto importante e ha bisogno dell'aiuto di tutti, perché quando denunciamo da due anni a questa parte che dietro i roghi ci potrebbe essere altro, ci potrebbe essere chi ha intenzione, la comunità organizzata, di prendere possesso del controllo dei rifiuti, questa è una cosa grave, è qui che stiamo oggi in prefettura, proprio perché già il prefetto aveva accolto la nostra richiesta che è partita all'indomani del primo rogo del 3 agosto, di avere la possibilità di avere un maggior controllo del territorio con forze dell'ordine, ma tavolo che deve coinvolgere anche le attività imprenditoriali, qui bisogna fare quadrato, bisogna fare cultura, bisogna essere uniti e non vedere che il nemico è fuori, tutti i cittadini devono essere vicini al sindaco e combattere questo pericolo che non me lo sto inventando, perché molti sto vedendo che stanno prendendo posizioni in questo senso.